Fai accesi puntati sul progetto retrospettivo de congestionamento strada statale 18 e copertura trincerone ferroviario primo lotto. I ragazzi della quarta A del Genuino di Cava dei Tirreni hanno avuto le idee chiare sin dall'inizio grazie alla fattiva collaborazione della professoressa Rita D'Ancora che li ha sapientemente guidate la ricerca e scoperta attraverso interviste e quanto di utile per ricostruire una delle pagine più complicate della storia di Cava dei Tirreni, il trincerone ferroviario. Ci siamo buttati a capofitto e senza timore al fianco di Open Coesione, scrivono i ragazzi del Boulevard Guys sul sito costruito ad hoc. Il progetto, quello proprio del trincerone, partito come viale alberato Boulevard per l'appunto che ha preso poi tutta un'altra piega e al posto del Boulevard è stato costruito un grande parcheggio. Presenti al Marte, oltre ai ragazzi e quindi ai docenti di riferimento del liceo scientifico, con in testa la preside Maria Olmina D'Arienzo, anche docenti universitari responsabile della sovraintendenza e l'amministrazione comunale. È un bellissimo momento per due motivi. Primo motivo perché vediamo giornalmente l'impegno di questi ragazzi che credono nelle loro capacità perché difficilmente vengono valorizzati. In questo senso invece lo sono stati e hanno dato dimostrazione del fatto che l'impegno e lo studio di determinati argomenti portano a un risultato molto positivo. Ed è anche per noi come amministrazione un momento da valorizzare perché la ricerca che loro hanno fatto evidenzia una serie di aspetti problematici della tematica relativa al trincerone che può essere il punto di partenza per evitare che ogni opera, ogni attività del nostro ente abbia dei tempi così lunghi, anche se in alcuni casi le responsabilità non sono direttamente dell'amministrazione ma delle amministrazioni superiori, in questo caso sovraintendenza, regione, eccetera.